Grazie a tutti, grazie per essere stati così numerosi nel rispondere al nostro invito. Siamo molto contenti che ci sia tanto interesse per la materia doganale, ci fa estremamente piacere che il lavoro fatto da EGEA e da noi sia stato ripagato con tanta attenzione. Io come prima cosa voglio ringraziare le persone che mi hanno aiutato in questo percorso, perché comunque, lo ricordava prima il professor Glendi, scrivere un manuale è sicuramente un regalo che si fa a se stessi, un lusso, perché significa rimettersi a studiare, a riprendere i fondamentali, insomma a ripercorrere un po' quello che è il patrimonio di uno studioso della materia, anche se è una parola troppo grande. Però è uno sforzo che non si può fare da soli, che si fa con altre persone, che sono parimenti determinate e che hanno molta volontà e passione per questa materia. Quindi voglio ringraziare Valeria Baldi, Lorenzo Ugolini, Massimo Monosi, Lucia Mannarino, Maria Pia Sanguinetti, Stefano Di Domizio, Francesco Pitaluga, Paolo Randazzo, Flavia Di Luciano. Sono stati tutti molto pazienti con me, perché sicuramente è una materia che mi appassiona da tempo, su cui certamente non ho fatto mancare puntuali e costanti revisioni, aggiornamenti, integrazioni, fino all'ultimissima bozza. Adesso parliamo della pianificazione doganale. Sappiamo tutti come, quando ci siamo avvicinati alla materia doganale, per quanto mi riguarda una ventina d'anni fa, sembrava una materia destinata un po' a scomparire dall'attualità delle aziende, perché si andava ovviamente verso l'Unione Europea e quindi al venir meno delle barriere doganali all'interno degli scambi intracomunitari, si evolveva il mondo internazionale, quindi lo ha ricordato prima Ugolini, il WTO, la riduzione progressiva dei dazi. Si pensava in qualche modo che le dogane fossero destinate a essere un fenomeno del passato o a scomparire. In realtà siamo di fronte ad un fenomeno invece diametralmente opposto. Il diritto doganale è più complesso, involge interessi sempre più importanti sia sotto profilo organizzativo delle aziende che sotto profilo economico. Vediamo infatti che tantissimi fattori convergenti hanno determinato questo fenomeno dell'outsourcing internazionale, per cui ormai moltissime sono le imprese che si concentrano soltanto su quello che è il loro core business, su quello che è per esempio la ricerca, lo sviluppo, l'innovazione, oppure anche segmenti quali il design, il marketing, lo sviluppo di brevetti, demandando poi altrove la realizzazione e i singoli passaggi. Questo è un esempio piuttosto chiaro, piuttosto diffuso, la frammentazione del mercato tessile, abbiamo un design, un brand italiano, ma poi la realizzazione passa attraverso una filiera che è fatta ovviamente di passaggi, di imprenditori e di soggetti che appartengono a stati diversi, con un valore aggiunto che si va incrementando di passaggio in passaggio fino ad arrivare poi al risultato finale e alla catena di vendita, la distribuzione del prodotto. Quindi già nella realizzazione di un singolo prodotto e all'osservazione di quelle che sono le realtà aziendali di oggi, notiamo come il fenomeno doganale anziché essere meno importante è diventato via via sempre più importante e anche sempre più complesso e come necessariamente richieda un aggiornamento quotidiano costante e un maggior livello di specializzazione. Abbiamo visto i dati statistici che abbiamo riportato all'inizio, lo ricordano, le aziende italiane che hanno tenuto meglio durante la crisi sono quelle che hanno venduto molto all'esportazione, sono quelle che si sono concentrate sul loro business, sui mercati di destinazione, sono quelle che hanno ampliato la propria platea di clientela. Così come per quanto riguarda l'importazione, tantissime sono ovviamente le aziende che hanno delocalizzato nel modo in cui abbiamo visto in precedenza. Il fenomeno delle esportazioni e delle importazioni in Italia è importantissimo, l'Italia è l'ottavo paese al mondo per esportazioni, per un valore complessivo di circa 400 miliardi di euro, il dato è aggiornato a agosto di quest'anno, dodicesimo per quanto riguarda le importazioni, con un sensibile incremento e miglioramento della bilancia dei pagamenti nel segno ovviamente positivo, con un'inversione di tendenza rispetto agli anni precedenti. Quindi insomma i dati oggettivi ci dicono che vi è una forte tendenza all'internazionalizzazione che però non è accompagnata da una pari attenzione e da un pari approfondimento. Nelle linee guida del WCO, della World Custom Organization, vi è proprio l'approfondimento, la specializzazione dei professionisti, dei funzionari, di tutti coloro che ruotano nel mondo doganale, attraverso proprio anche dei seminari, dei master, degli insegnamenti universitari. E vediamo che sempre più confrontandoci con gli altri paesi questo nostro tipo di approfondimento un po' manchi e viene spesso demandato proprio alla volontà, all'iniziativa dei singoli, mentre manca un mondo strutturato di appassionati di questa materia. Oggi quindi abbiamo questa consapevolezza che per le imprese e per la loro competitività è decisivo un approfondimento serio, un aggiornamento costante, una visione simultanea rispetto ad altri segmenti del segmento doganale. E quindi la pianificazione doganale è uno strumento fondamentale del business aziendale. Una frase che ho sentito a Ginevra due settimane fa nel corso di un incontro al WTO, mi è piaciuta moltissimo e la riprendo. La competitività delle imprese e la loro crescita non sono più determinate soltanto dall'attrattività dei prodotti, ma in maniera sempre più crescente dalla corretta pianificazione dei tempi, dei costi e delle procedure doganali adottate. E questo mi sembra un concetto di partenza molto forte, molto importante, che fotografa molto bene la realtà attuale. Quindi al centro dell'organizzazione aziendale vi è anche questo importantissimo fenomeno, che spesso viene gestito con un'attenzione non appropriata rispetto alla sua decisività. Ormai da molti anni nelle aziende di medio-grandi dimensioni sono monitorati stabilmente tutti i fenomeni relativi al settore della finanza, così come al settore fiscale, e c'è un approfondimento e una pianificazione specifica al millimetro percentuale. In ambito doganale invece questo non avviene. In ambito doganale spesso ci si dimenticano proprio questi aspetti fondamentali che sono qui riassunti. Le operazioni doganali determinano ovviamente il sostenimento di costi, dazi doganali, IVA, le anticipazioni finanziarie per la fiscalità doganale, per esempio utilizzare un deposito IVA o utilizzare un meccanismo di importazione diretta comporta due conseguenze diverse. Utilizzando l'eposito IVA non c'è l'anticipazione finanziaria dell'IVA, se ovviamente lo si utilizza in maniera corretta, invece importando direttamente abbiamo l'anticipazione finanziaria dell'IVA che poi viene portata in detrazione ma che comporta talvolta dei tempi lunghi per i meccanismi eventualmente di rimborso. Quindi la dogana poi ovviamente porta con sé tempi e costi di trasporto e di spedizione. Quindi tutta una serie di variabili, di elementi che non sono diciamo così fissi e inevitabili ma che possono essere anche opportunamente studiati e ottimizzati da parte delle imprese. Poi spesso le aziende, noi lo vediamo molto nella fase diciamo patologica, non si rendono conto dei rischi che sostengono. Cioè le aziende spesso sono poco edotte, poco informate che tutti i rischi relativi alla non corretta individuazione della classifica doganale o anche addirittura dell'origine doganale pur in presenza di certificati di origine magari preferenziale danno luogo a contestazioni nei confronti dell'importatore. Contestazioni che possono intervenire anche anni dopo l'avvenuta importazione, tre anni se non c'è reato e che determinano evidentemente dei rischi molto rilevanti con delle conseguenze anche in termini di appostamento di fondi a bilancio delle aziende, sostenimento di costi per quanto riguarda le garanzie fidei ussoie, i costi processuali eccetera. E poi ovviamente incappare diciamo così in un'attività di verifica, di controllo, con visita fisica, con analisi, può determinare anche ovviamente dei ritardi per quanto concerne la tempistica di consiglia della merce e l'assolvimento di penalità commerciali. Quindi insomma ci sono delle aree di studio, delle aree di costo, delle aree di rischio che vanno attentamente monitorate e per ottimizzare questi costi è necessaria ovviamente fare una check up, fare un'attenta analisi dei profili di rischio, delle possibili soluzioni, valutare le possibili alternative, riorganizzare anche e fare dialogare tra loro le funzioni aziendali. Molto spesso ci rendiamo conto che nelle aziende il segmento commerciale, deputato quindi alla vendita, non si interfaccia sulle problematiche doganali con il segmento amministrazione e finanza oppure gli acquisti che si approvvigionano in mercati esteri dove poi vengono diciamo così alla luce fenomeni che possono essere soggetti a contestazioni doganali, quindi origine non correttamente dichiarati, valore non dichiarato in maniera legittima, integrale, ecco in questi casi tutte le volte in cui ci sono problematiche doganali ci si è resi conto che non c'è stata un'adeguata prevenzione, un adeguato monitoraggio degli acquisti oppure delle vendite, dei percorsi che potevano essere utilizzati in alternativa. Un altro aspetto che vedremo parlando anche di transfer pricing e valore doganale è la necessità di dialogo tra i consulenti, chi si occupa di tasse e quindi di imposizione diretta deve dialogare con chi si occupa di dogane e quindi di fiscalità indiretta, dazi doganali, IVA, accise, ci deve essere ovviamente un dialogo. Quindi la pianificazione doganale in realtà è una prassi diciamo così che le aziende dovrebbero adottare sistematicamente, molte lo fanno già, altre ovviamente si stanno avvicinando a questo fenomeno e lo fanno in maniera sempre crescente. Il primo step è proprio un'esatta ricostruzione di dove siamo, un check-up doganale, qualcuno lo chiama anche due diligence doganale, quindi una corretta analisi della disciplina doganale che può condurre a sensibili miglioramenti dei risultati aziendali. Dobbiamo affrontare, esaminare tutti gli aspetti che individuano i dazi doganali correttamente applicabili al caso di specie. Quindi ci dobbiamo muovere in un'ottica che non sia, si è sempre fatto così oppure tradizionalmente si fa così, ma vediamo questa operazione e valutiamo insieme se ci sono all'interno di questa operazione degli spazi di miglioramento o eventualmente degli spazi di allineamento rispetto ad una disciplina doganale che non è esattamente percorsa. Quindi rivedere insieme la classifica delle merci, il valore e l'origine che sono ovviamente gli elementi essenziali dell'obbligazione doganale consapevoli del fatto che un errore nell'interpretazione e nell'applicazione della normativa può determinare conseguenze rilevanti sia in termini di rischi che in termini di costi. Per esempio il valore doganale molto spesso ci rendiamo conto che non vi è un attento esame e un attento studio di quella che è la valutazione doganale corretta della merce. Il prezzo indicato in fattura come sappiamo è solo un punto di partenza. Poi mi permetto di richiamare il libro dove c'è un capitolo insomma molto molto articolato che ha curato insieme a me l'avvocato Baldi. Tanti sono gli aspetti che possono concorrere o meno al valore doganale. C'è una disciplina molto analitica che va attentamente studiata per comprendere cosa deve essere ricompreso e quindi potrebbe essere recuperato in caso di accertamento doganale rispetto a quello che può non essere ricompreso e quindi legittimamente può essere escluso. Quindi problematiche che si aprono e che vanno esaminate gli elementi che vanno compresi gli elementi che vanno esclusi la possibilità per esempio di utilizzare il first sale adesso i tempi sono stretti però tendenzialmente il first sale è un meccanismo legittimo di risparmio sui tazzi doganali previsto dal legislatore comunitario ma in questo momento non confermato dal codice doganale dell'Unione che consente di avere come dato di riferimento non il valore della transazione ma il valore dell'ultima transazione ma il valore della transazione precedente della merce che comunque era destinata verso l'Unione Europea questo evidentemente consente di prendere in esame un valore più basso rispetto poi a quello pagato dall'importatore quindi con un risparmio legittimo altro tema molto discusso in questi anni le royalties quando vanno comprese quando sono escluse dal valore doganale ne abbiamo trattato anche a lungo nel manuale ci sono anche appunto gli schemi di riferimento che sostanzialmente è il famoso schema triangolare esaminare i casi in cui le royalties devono essere ricomprese nel valore doganale tutte le volte in cui il fornitore nel nostro caso il soggetto A sia un soggetto diverso rispetto al titolare del diritto di licenza o del marchio che è il soggetto C in questi casi senza richiamare adesso la normativa doganale che è estremamente complessa e articolata il combinato disposto delle norme del codice con quelle delle disposizioni di attuazione ci dicono che la tassazione deve avvenire soltanto se il pagamento della royalties è una condizione di vendita della merce ossia della fornitura da A a B e se il soggetto C è un soggetto che esercita un controllo sul soggetto A quindi laddove queste condizioni si verifichino dovrà l'importatore dovrà includere nel valore doganale della merce anche le royalties se invece il controllo non sussiste e qui vi sono molte attenzioni che vanno fatte in relazione al tipo di controllo controllo può essere di fatto come anche di diritto ma il controllo di qualità non rileva i fini della tassazione delle royalties insomma se il controllo non c'è le royalties non concorrono al valore doganale quindi occorre come vedete prestare attenzione non soltanto alla classifica in sede della merce alla sua oggettività alla sua diciamo così realità ma occorre anche avere come punto di riferimento la contrattualistica quindi occorre esaminare i contratti valutare le fonti di approvvigionamento valutare proprio la disciplina che è sottesa ai rapporti di fornitura dall'estero sappiamo anche che secondo un recente studio dell'Ocse oltre il 50% delle operazioni degli scambi internazionali avviene tra società che appartengono allo stesso gruppo questo vuol dire che per oltre il 50% delle transazioni si apre un problema di compatibilità della norma della disciplina sul transfer pricing rispetto alla disciplina doganale abbiamo qui l'avvocato Nuzzolo che è un grande esperto di transfer pricing e nella tavola rotonda a seguire sono convinta che ci darà delle delucidazioni molto importanti sotto profilo doganale come sappiamo abbiamo delle tensioni opposte rispetto a quelle che si rilevano sotto profilo delle imposte dirette ai fini delle imposte dirette l'esatta determinazione del valore deve condurre evidentemente ad una ad una ad una situazione di possibile recupero della tassazione di materia imponibile ai fini doganali invece un valore doganale più basso significa minore incidenza dei dazi e quindi ci sono proprio delle tendenze contrapposte tanto è vero che si sono verificati casi che sono diventati ormai casi di scuola di società di operatori che hanno ricevuto contestazioni proprio sul valore della merce importata e in disegno completamente opposto l'agenzia delle entrate ovviamente procedeva ad una rideterminazione al ribasso del valore dichiarato in dogana al fine di recuperare materia imponibile attraverso una riduzione dei costi l'agenzia delle dogane invece operava un recupero al rialzo del valore medesimo ritenendo che la merce fosse stata dichiarata ad un valore non perfettamente coerente a quello di mercato adesso il fenomeno è assai complesso e controverso l'ultimo punto di riferimento che abbiamo sono le linee guida del World Custom Organization del giugno 2015 il consiglio è quello ovviamente di aprire il più possibile una compliance sia con l'agenzia delle dogane che con l'agenzia delle entrate sulla base anche del master file della documentazione di supporto ai fini del transfer pricing per avviare per tempo un percorso di chiarimento di chiarezza di trasparenza che eviti poi delle scontestazioni successive anche perché come sapete lo abbiamo riportato anche nel nostro libro la Cassazione nel 2013 ha ritenuto che i contratti di aggiustamento dovuti al transfer pricing non possono determinare una variazione in diminuzione del valore doganale e quindi vi è concretamente il rischio ove non opportunamente prevenuta questa problematica che vi siano dei valori discordanti che si abbia a pagare due volte su valori completamente diversi nel prossimo vertice di G20 di Lima si attendono delle modifiche importanti per quanto riguarda l'ineguida dell'Ox e quindi probabilmente in quella sede avremo degli ulteriori passi avanti nell'avvicinamento di due sistemi quello doganale e quello transfer pricing che non sono assolutamente vicini cosa serve a determinar l'origine della merce ovviamente è fondamentale per stabilire l'individuazione del corretto trattamento daziario ma anche per verificare la possibilità di applicare eventuali dazi antidumping o contingenti limiti quantitativi è stato già detto ci sono tipi di origine diversa preferenziale non preferenziale la classifica della merce ovviamente un ulteriore elemento tecnico importantissimo la classifica della merce molto spesso da luogo a contestazioni che possono essere facilmente prevenute in due modi in primo luogo così come anche l'origine come è noto in primo luogo è possibile esplorare la banca dati che si trova sul sito della commissione europea proprio per valutare cosa è stato già detto come è già stata classificata quella merce quel prodotto da amministrazioni doganali italiane o da altre amministrazioni doganali e questo è già un punto di riferimento utile per avere un inquadramento di massima sappiamo però che le ITV cioè le informazioni tarifarie vincolanti e le informazioni vincolanti in materia di origine obbligano soltanto l'amministrazione in relazione al singolo contribuente un po' come avviene per l'interpello questo però non significa che non sia un punto di riferimento uno spunto interpretativo importante che potrebbe dare la possibilità allo stesso operatore di chiedere lui preventivamente un ITV o un Ivo al fine di evitare successive contestazioni molte delle contestazioni che noi oggi vediamo nelle aule giudiziarie potrebbero essere prevenute attraverso la richiesta di un'informazione tarifaria vincolante che non ha costi che viene rilasciata dall'amministrazione e che tutela il contribuente di fronte a successive possibili contestazioni quindi lo scopo della fianificazione è quello di trovare dei meccanismi assolutamente legittimi trasparenti di ottimizzazione del carico doganale degli oneri daziarie e finanziari di semplificare anche l'attività amministrativa e logistica molti operatori infatti non considerano che accedendo per esempio ad un sistema aeo a un riconoscimento aeo hanno una minore incidenza dei controlli fisici sulla merce e quindi minori tempi di sosta minori controlli accedendo alle procedure domiciliate hanno un'ulteriore semplificazione nell'interscambio di informazioni con l'amministrazione e nello sdoganamento quindi l'utilizzo dei meccanismi diciamo così delle procedure più appropriate consente evidentemente anche dei risparmi notevoli in termini di tempi così come vi è anche ovviamente la possibilità di ottenere dei risparmi di tipo economico perché per le aziende che per esempio si trovano a operare la lavorazione su merce che già dall'inizio si conosce essere destinata ai mercati esteri il meccanismo sicuramente più adeguato è quello del perfezionamento attivo e quindi della possibilità di attivare una importazione della merce o meglio del semilavorato destinato soltanto ad una lavorazione per ottenere poi la successiva riesportazione anche qui cambiano delle cose con un nuovo quadrice doganale dell'Unione ma è importante rilevare come in questi casi non si ha una tassazione finidoganale di un prodotto che non è destinato al circuito commerciale europeo quindi torno un po' al discorso che faceva prima Lorenzo ossia che il dazio doganale colpisce in maniera sempre più raffinata e più attenta quello che è destinato ad un mercato e non il solo fatto in sé dell'aver superato un confine geografico quindi il secondo step della pianificazione doganale dopo aver fatto un monitoraggio bisogna trovare delle soluzioni alternative capire se ci sono possibilità di evitare dei rischi e quindi trovare soluzioni più sicure chiedendo facendo leva su interpelli su informazioni tarifarie vincolanti possibilità di trovare appunto delle sintesi delle analisi attente per quanto riguarda appunto il valore doganale transfer price se si opera in un contesto infragruppo tenendo presente per esempio che proprio sono diversi gli elementi di riferimento perché per quanto riguarda la valutazione doganale il concetto di soggetti legati di persone legate è molto più ampio quindi la disciplina doganale inerente la determinazione del valore nei rapporti tra parti correlate è ben più ampia ed estesa di quello che è invece ai fini delle imposte dirette dicevamo quindi valutare alternative trovare delle soluzioni alternative che possano consentire dei risparmi e poi eventualmente anche cambiare proprio le linee di approvvigionamento se ci rendiamo conto che quel determinato fornitore non è sufficientemente competitivo perché il dazio applicato al prodotto originario di quel paese è più alto rispetto al dazio che sarebbe applicato ad un altro prodotto originario di un altro paese ma che ha diciamo così delle caratteristiche oggettive assolutamente analoghe ai comuni riverificare e modificare la contrattualistica se la possibilità di individuare meglio dei segmenti di costo consente di escluderli dal valore doganale una più precisa e dettagliata individuazione degli stessi consente dei risparmi legittimi valutare modalità di sdoganamento alternative per quanto riguarda l'export anche ovviamente ci sono degli ambiti di miglioramento quindi noi diciamo studiare approfondire migliorare usare termini inglesi spesso nasconde tradisce una certa una certa insicurezza noi riteniamo invece che il fondamento di una di una corretta pianificazione sia sicuramente conoscere approfondire e tentare di mantenere un costante aggiornamento sulla materia con l'obiettivo di migliorare le performance aziendali con l'obiettivo di ottenere dei sensibili costi ridotti dei sensibili risparmi perché non dimentichiamo che un dazio doganale applicato nella misura del 5% piuttosto che del 6% può incidere notevolmente sul business plan di un'azienda e quindi trovare delle formule di ottimizzazione di esonero di agevolazione certamente fa una grande differenza così come al contrario subire poi un accertamento che contesti l'applicazione di un dazio antidumping per il 60% del valore del prodotto fa un'ulteriore differenza in senso peggiorativo quindi aspetti che incidono in maniera decisiva sul business plan e sulla tenuta di un bilancio aziendale per quanto riguarda l'export un aggiornamento costante sugli accordi commerciali e tarifari lo ricordava prima Lorenzo sottoscrivono un accordo internazionale significa creare dei mercati di sbocco che prima non si avevano significa poter entrare sui mercati esteri a condizioni particolarmente vantaggiose e competitive avendo un sconto una riduzione considerevole dei dazi quindi un'immediata competitività con i prodotti interni diventare esportatore autorizzato per evitare per quanto riguarda per esempio le certificazioni di origine per evitare procedure contenere la tempistica i costi amministrativi relativi alle varie autorizzazioni la valutazione di possibilità di utilizzo dei regimi doganali per tutte le volte in cui si deve utilizzare appunto meccanismi di trasformazione di lavorazione di prodotti che sono destinati poi definitivamente all'estero e poi ovviamente sempre approfondire rapporti tra valore doganale e transfer pricing che è un diciamo così un mantra che va sempre ricordato nei rapporti infragruppo insomma noi abbiamo cercato di studiare questa materia mettendoci anche un po' di dinamismo e la volontà di offrire un punto di vista il più possibile anche concreto e utile per gli operatori speriamo di esserci riusciti vi voglio ricordare che l'incontro di oggi ha avuto per fortuna riscosso per fortuna un grande interesse quindi si replicherà il 25 di novembre e questo ci consentirà di tornare su questi temi con tutti coloro che non hanno potuto iscriversi perché le iscrizioni si sono chiuse avendo raggiunto il numero massimo dei partecipanti quindi ringrazio tutti e poi diamo la parola al tavolo rotonda grazie 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 grazie